Giuseppe Cosentino, qui dove comincia il caos, si disperdono tra noi parole vuote che sfuggono a ogni logica e non trovo senso compiuto nel propagarsi degli eventi che si perpetuano in un disseccato presente. Qui, dove comincia il caos, prova a mettere ordine in un quotidiano che si trascina verso un vuoto permanente. Grazie.